andiamo? aspetta ecco ma chiara e ha scritto bene sii 3 avanti 1 indieto oh essia ah dicono non si è entrata con me ah non sta lì ah pessimo yupp yupp si ah ho capito torna indietro vai 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 ci sono vai sulla tua plession la tua tua ma torno lentamente torno molto lentamente ok ok vai avanti vai porta e coraggio va va vabbè tanto lo devi chiedere lo stesso se te frega ah lag ok oh oh aspetta aspetta è la mia ehm premi tu premi tu quello che c'è lì sii no quello mi ha aperto solo per tornare indietro non ci voglio di tornare indietro che c'è lì che c'è lì che c'è lì che c'è lì vieni vieni qui dai pirla no non ti buttare no ma non sto aspettando che tu salga con calma nessuno ci corre dietro stai per caso spaccando un pezzo di ossidia le mani nude cos'è dai ecco ti ho regalato una mela perchè sono imbornito ah avevo fame inquietante dodici dodicesima stampa cosa ha scritto aspetta vediamo andiamo andiamo you are already here oh don't worry this jump is impossible impo no no aspetta vieni leggi 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 impossib oppossum the jump is oppossum oppossum ok addormi oppossum minchia forse dovrebbe è una cosa nuova dovrebbe si dovresti vedere come stavi dormendo eh ehm ci dovresti vedere come stavi dormendo ma se eri sul letto di traverso nero quando no lag anche tu ed è tutto nero dovrebbe simbolizzare il fatto che chiudi gli occhi quando dormi oh è una bug non l'ho capito oh ah gli fps cazzo ah immagino che dobbiamo sentire questa volta tocca a me oh l'altro 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 ci arrivo eh tu no ripeti hai bravo ok bravo ora devono presso pa oh cazzo bene su Dovrebbe accadere qualcosa? Saga Beh, ah beh sì Questo jump è impossibile Sì, credo Andiamo 13 Qua c'è scritto? Qua? Quella jump è impossibile 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 But you can't get past Past Copy and paste Solid doors But you can't incolla Solid doors Non puoi incollare le porte solide Mi dispiace, mi dice So che volevi farlo Ma non puoi farlo Smetti di cambiare media per accendini Possiamo fare il racket degli accendini comunque Oh no, no, no Mi rifiuto Aspetta, no No L'ho già fatto troppe volte Mi rifiuto Rompiamo la porta L'ho già fatto Una parola grossa Troppe volte abbiamo citato per far sta roba Ma è qualcosa di assurdo Ma chi lo vuole fare? Non ci vedo nessun cambiamento Devo essere sincero Ma non dovrebbe essere sincero Ma non dovrebbe essere sincero Cosa deve succedere? Eh, infatti proprio pensavo anch'io Sì, a me Anche Premi un po' di testi a casaccio Voglio vedere cosa succede Succede niente 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 Guarda che bravo questo è No, immagino di aver fare Tu premi questo tasto Io premo quell'altro Premi quello Io premo questo Che l'ho premuto? Perchè? Ah, è già passato Ok Ci siamo quasi Questa è più facile di quelli che avevano fatto Ok No, sta tornando indietro Dobbiamo aprirla insieme Eh, fatto Oh, andiamo Verso la prossima meta Aspetta cosa ho scritto qui di bello But, but, ow Did you press random button? Eh, in circa Let's see how smart you are in math Because I am the best Ok 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 Va bene Smartest Io sono lo stupido Sì, assolutamente Ah, do you still believe me? Believe? Believe? Believe I can fly Ok Let's ma Let's start really simple 8x3-3 8x3-3 Sì 8x624 21 Dovrebbe succedere qualcosa qua Ok Insert the code and reset Ah, 21, ok 2, 1 Non è successo niente Ok Ah, ancora non dammi il tempo Poi Prossima Non è successo niente Dovrebbe succedere qualcosa Scusa Scusa Ma quante ce ne sono? 8x4-3 E tutta sta fila qui Sì, ce ne sono molte But you can't do this 124 diviso 8 per 2 più 7 Ho fatto bene a sceglierla via nello stupido Ripeti? 124 Diviso 8 124 Diviso 8 Diviso 8 Per 2 Vai vai Ah, fanculo Cheater 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 Per 2 più 7 Più 7 Più 7 38 Sei un genio eh Porca boia se Non è la prossima faccia a mente Vai You cannot solve this 981-330 Allora, no, sarebbe Tra parentesi 981-330 Chiusa parentesi Diviso 3-119 Vabbè, allora Prima devo fare 981-330 Sì Quello che viene diviso 3 Meno 119 651 Diviso 3 Che fa 600 Allora, 51 51 30 21 Fa 17 17 Per 200 Eh, 217 Meno Alla fine quant'era? Meno 119 217 Meno Meno 119 7 Fa 98 Se non sbaglio 98 Impossible You are brainless Vai 986-76 Tra parentesi Diviso 13 Più 15 No, più 5 Scusate Ok, allora comincia Vai, vai, vai 986-76 Tra parentesi Aspetta 986 Meno 76 No 986 Meno 87 Meno 76 Non mi hai preso l'87 986 986 Meno 76 Ok E fa 900 1 910 910 Ero 800 910 Diviso 13 Non mi ricordo proprio Che cazzo Vai a vedere sta cazzo di equazione Citer 986-76 Fa 910 Diviso 13 Fa 91 diviso 13 Torna qui, torna qui, torna qui, torna qui Dovrebbe far 7 Se non sbaglio Se non sbaglio Quindi 70 70 Che cazzo sto Sì 70 Forse No Non ce l'ho anche fatta Dovrebbe fare 7 7 più 5 Ehi 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 Premi 75 Impro Impossible 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 Bluh Impossible Si è aperto qualcosa Cosa si è aperto? Si Niente che abbia relazione con il nostro Il nostro proseguimento Ehi tu non puoi stare di qua Hai ragione Ricominciamo That you still believe me Qualcosa si è aperto ma Non è che devi premere l'ultimo tasto Ah sì L'ho già premuto Insert the code and reset L'ho inserito il codice Va bene Ricominciamo dall'inizio Oh no Il primo era 21 21 Poi Cos'era l'altro? Eh Questo 124 Diviso 8 Per 2 124 Fa 80 10 10 Per 44 No Quella ti sei dato?